Eccoci, c'è Andrea. Tanto siamo distanziati, quindi possiamo parlare senza mascherina. Beh, qui abbiamo fatto vedere, adesso faremo vedere altri estratti delle sue interviste. Personaggio, eh, Cutolo. Personaggio ogni tanto criptico, no? Però certamente dotato di carisma rispetto alla media dei camorristi, dei mafiosi che conosciamo. Come lo ricorderesti, lo racconteresti? Il camorresta ideologo, è raro che i leader delle organizzazioni criminali italiane, ma direi in genere delle organizzazioni criminali mafiose, anche internazionali, decidano di fare della propria pratica un'ideologia. Cutolo furbescamente, furbescamente, decide da subito di fare della criminalità qualcosa in più di una pratica di furto, di estorsione, di sbaccio, di tangente. Devi diventare un'idea. E lo fa in un momento in cui è un disperato, giovane, finito in carcere, non per motivi criminali, di criminalità organizzata. Una scena qualsiasi lo porta in galera. interviene una persona a difendere questa donna e lui uccide questa terza persona. Questa ragazza. Finisce in carcere. In carcere si rende conto che gli affiliati alle famiglie classiche camorriste sono soli. I boss in carcere ricevono il cibo migliore, sono difesi da avvocati migliori, gli affiliati no. Avvocati d'ufficio, il cibo che portano le famiglie. E lui inizia a teorizzare la camorra, la vera camorra e altro. Ma dietro c'era un piano. Il piano era costruire una struttura verticistica in grado di cacciare dalla campagna marsigliesi e siciliani che sfruttavano la frammentarietà delle famiglie napoletane per conquistare il territorio. E lui dice giustamente, facciamo noi, invece di appaltare o di farci appaltare. Costruisce una struttura dove c'è un unico re, lui. Che chiama partito. Esatto, lui dirà sempre che la NCO è paragonabile a partito comunista, la democrazia cristiana. La parola camorra non è usata dai camorristi in genere. Quindi anche in questo c'è della stravaganza. L'ultima intervista che abbiamo detto, lui dice che sono il primo e ultimo camorrista. Il resto è mafia. Il resto è mafia. I camorristi non si definiscono camorristi. Appartenenti al sistema, onorata società, anche mafiosi. La parola mafia è usata dai giornalisti, è cosa nostra. Ma è uguale per gli indranghetisti. Sono parole che usano i giornalisti, i telegiornali, i giudici. Tra loro non spendono quella parola. Perché Cutola lo fa? Perché è mediatico. Quindi si sceglie la parola più comoda, che mette più paura. Quindi la prendiamo. Nuova camorra organizzata. I nemici sui nemici avevano deciso di chiamarsi fratellanza napoletana. Ma un giornalista, quando trova questo dettaglio, FN ribalta e fa NF, nuova famiglia. Gli alleati contro Cutolo vedono questo nome, gli suona bene e accolgono. Quindi cambiano, si chiamano nuova famiglia. Quindi l'osmosi tra mediaticità e crimine è utilissimo per darsi un simbolo e un capitale di terrore, di paura. Tra l'altro, lui è figlio di un contadino, voglio dire, nasce molto umile figlio di una lavandaia. Però comincia a leggere, studia e capisce che può utilizzare questa cultura che si fa in carcere proprio per diventare quello che poi verrà definito professore. Cioè uno che ha la capacità di tenere testa sia ai giornalisti che ai giudici e quant'altro. Un intellettuale in qualche modo, anche se ogni volta che viene detto sembra che gli stiamo facendo un complimento, non per forza. Studiava Hobbes, Machiavelli, la Repubblica di Platone, il Vangelo. I grandi classici che servivano a costruire un uomo di potere. La sua riflessione tipica era ragiona sempre, mai con le emotività, sempre con la testa. Devi farti volere bene, ma devi anche farti temere. Insomma, principio classico. La nuova camorra organizzata diventa potentissima a un certo punto. E lui veramente gestisce un impero. Fine anni Ottanta, la NCO è in assoluto probabilmente una delle organizzazioni più potenti d'Europa. Cosa Nostra Stati Uniti e Cosa Nostra Siciliana devono relazionarsi a lui, anzi lo prescelgono come un interlocutore importante. Inuvoletta di Marano, in Campania, famiglia mafiosa di Cosa Nostra, quindi non camorrista, pur trovandosi in Campania. Che riceveva riina spesso. Certo. Liggio. Inuvoletta, in una prima fase, poi diventeranno certimi nemici, in una prima fase, devono assecondare il potere di Cutolo, ha un controllo totale, mette a stipendio tutti. Attenzione, dà la tredicesima agli affiliati. Gli affiliati che hanno figli disabili gli dà una pensione. Cerca di professionalizzare i figli degli affiliati. Li vuole medici, li vuole avvocati. Costruisce tribunali locali, ossessionato per esempio dall'ammazzare pedofili. Spesso uccideva persone, probabilmente innocenti, perché i suoi tribunali erano tribunali sommari ma veloci, rispetto al tribunale ordinario istituzionale. La NCO interveniva persino sugli sfratti. Cioè, lui comprende che è una struttura che va a sostituire lo Stato. Ma, attenzione, le mafie non sono l'antistato. Spesso ci viene detta questa cosa, no? L'antistato no. Con Cutolo abbiamo la prova che le mafie sono parte dello Stato. Sono una parte che a volte entra in competizione, in antagonismo con lo Stato, altre volte invece è in piena alleanza. Cutolo lo sapeva? E infatti la sua storia dimostra che è stato in molti momenti un uomo vicino alle istituzioni. Incredibile. È proprio a questo, diciamo, a questo punto adesso arriviamo. Perché ci sono quattro passaggi che lo raccontano e quattro passaggi che raccontano questo incrocio. Il primo riguarda il terremoto, la ricostruzione. Quindi quella enorme quantità di miliardi al cambio attuale, 55 più o meno miliardi di euro, impiegati per ricostruire le zone dell'Irpinia, tutte le zone danneggiate. Poi il caso Moro, il caso Cirillo e il caso Tortora. Cominciamo dal terremoto, ma vediamo che cosa è stato il terremoto del 1980. Buonasera, forti scosse di terremoto sono state avvertite pochi minuti fa in Basilicata, nella zona del Vulture vicino Potenza. Domenica 23 novembre 1980, due micidiali scosse di terremoto devastano l'Irpinia e la Basilicata. Le vittime sono 3.000, 300.000 gli sfollati e 687 i comuni colpiti, molti dei quali rasi al suolo. La macchina dei soccorsi si muove a fatica, nonostante lo stimolo dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. In prima battuta, lo Stato stanzia per la ricostruzione oltre 8.000 miliardi di lire, una somma gigantesca destinata a moltiplicarsi negli anni e nei decenni successivi, su cui la criminalità organizzata mette subito le mani. Nel corso delle indagini verranno arrestate 384 persone, tra politici, amministratori, imprenditori, boss e affiliati alla Camorra. 28 i clan coinvolti, tra cui la nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo e la nuova famiglia dei Nuvoletta e Bardellino. Chi ha provato a opporsi alle infiltrazioni mafiose o a raccontarle è stato eliminato, come il sindaco di Pagani, Marcello Torre, ucciso dai cutoliani nel dicembre 1980, appena poche settimane dopo il sisma, o il giornalista Giancarlo Siani, assassinato nel 1985. Non sono soltanto torre e Siani le vittime di queste esecuzioni che Cutolo decide perché si mettono di traverso sugli appetiti della nuova Camorra. Ce ne sono altri. Cutolo è stato in realtà un sanguinario, anche se dava di sé un'immagine di boss diplomatico. Scuole Cappuccio viene ammazzato nel 1978, Mimmo Beneventano viene ammazzato che erano consiglieri comunali. Uno socialista, l'altro comunista, ammazzati in grande barbare e violenza, Mimmo Beneventano davanti alla madre. I killer aspettano, sapendo che lui andava al mattino, era un medico, prima di andare in ospedale a salutare la madre sotto il balcone, aspettano lì e lo ammazzano. Di Ottaviano, quindi ammazza con paesani. Il messaggio che lui voleva dare è nel mio paese nessuno può usare. Cerca di ammazzare anche un magistrato, Gagliardi, che aveva capito il giro dei miliardi. Bisogna comprendere, 50 miliardi di euro di oggi arrivano. Un quarto del recovery fund. Lucania, Campania, anche Napoli, in realtà colpita dal terremoto di non solo l'Irpinia. Cosa comprende la camorra? Questi soldi serviranno all'impresa e alla politica. li daremo noi. Cioè, mediamo. Noi li prendiamo e noi li possiamo restituire. Perché loro direttamente non li possono rubare. Quindi loro comprendono di essere diventati non solo quelli che prendono una percentuale per far fare i lavori, ma che possono restituire quel denaro. E gestire il tesoro. E lì il punto. Torre viene ammazzato perché si impone alla sua giunta attenzione agli appalti. Bastava questo. con coraggio dire le cose a cui si fanno trasparenti e pagavi con la vita. Certo. Senti, facciamo...